Mi scuso innanzitutto per non essere questa sera presente, è un'iniziativa che reputo straordinaria e di eccezionale opportunità per le istituzioni e per la Regione intera. I precedenti impegni istituzionali mi portano purtroppo altrove e però voglio consegnare esattamente un messaggio di plauso per l'iniziativa e di benvenuto a Repubblica e al suo mondo, nelle sue articolazioni, da parte della Regione Basilicata e mio personale. Matera che è orgogliosa e onorata di ospitare una manifestazione straordinaria come questa, particolarmente innovativa, messa in campo non da oggi ma da qualche tempo da Repubblica e a cui va ovviamente e oggettivamente il nostro plauso oltre che il nostro ringraziamento. È una Basilicata che coglie questa occasione per rilanciare sul piano della cultura e dei turismi partendo proprio dalla città dei Sassi, proprio da quella città che diventa vettore per l'intero sistema Basilicata e concorre per il riconoscimento di capitale europea della cultura 2019. Io penso che Matera e l'intera Regione possa attraverso questa scommessa potenziare la vocazione che ha e questo straordinario vettore, questo asset che è racchiuso tra turismi e cultura e possa traghettare la stessa città e lo stesso territorio regionale verso l'ambizioso progetto e il risultato. Noi tenteremo di coniugare innovazione, recupero virtuoso delle intelligenze e del capitale umano soprattutto delle nuove generazioni che in questa nostra Regione eccelle e delle straordinarietà di questo nostro territorio dal gusto all'ambiente, alla natura, ai mari e alla straordinarietà dei Sassi di Matera. Questa miscela può essere esplosiva e catapultare in Europa e nel mondo la nostra Regione. Ecco perché le istituzioni, anche cogliendo virtuosamente iniziative straordinarie come queste che incrociano anche celermente una sorta di confronto incontro con giovani generazioni che della innovazione e della loro spiccata intuizione e intelligenza fanno valore aggiunto nel recupero il virtuosismo necessario per continuare a irrobustire ciò che noi stiamo mettendo in campo con azioni amministrative e politiche di lunga gittata. Noi dobbiamo dell'unità fare valore aggiunto e poi osare un po' di più. Questo è il tempo del coraggio, è il tempo dell'autoimpresa, è il tempo di mettersi in discussione. Questo vale per le istituzioni e per le articolazioni istituzionali, vale per la politica ma vale soprattutto per le nuove generazioni che devono rappresentare, cogliendo quanto la programmazione europea del 14-20 ci consegna, quel valore aggiunto per fare impresa. E farlo esattamente sull'innovazione che sta sul prodotto, sul processo, che sta sulla ricerca avanzata e che sta sulla creatività e mi sembra che partire da questo luogo, che è il luogo della creatività possa essere di buon auspicio per i nostri giovani, per i nostri cittadini e per l'intero Paese.